Il Casteldorante, l'antica Casteldorante Urbania, anche quest'anno fa un'importante iniziativa, un'interna mostra a Palazzo Ducale di Urbania e quest'anno non potevano essere legate ai festeggiamenti federiciani, festeggiamenti per la nascita di Federico da Montefeltro. Il Palazzo di Urbani si appresta ad aprire questa mostra alla fine di giugno e resterà aperta fino a ottobre e questa mostra avrà uno spaccato particolare perché coinvolgerà anche un importante personaggio che è il Cardinal Bessarione, amico di Federico da Montefeltro, una persona che salva questi codici e li porta in Europa, perciò salva la cultura greca, li porta in Europa e con sé anche la classicità. Insomma, quello che siamo oggi lo dobbiamo imparare anche a lui. La mostra sarà preceduta da una rievocazione storica il 19 di luglio che in qualche modo anticiperà questo arrivo del Cardinale Bessarione Urbania e coinvolgerà anche la popolazione. Questa anticipazione della mostra e questa rievocazione sarà fatta con un'associazione di Urbania, anche il Palchettone, perché tutte le attività, e saranno tantissime, che arricchiranno la mostra di esperienze immersive, saranno fatte con associazioni di Urbania. Ci teniamo molto a valorizzare il nostro territorio e a farlo con chi Urbania si impegna tutti i giorni. Un appuntamento molto bello e molto suggestivo sarà sicuramente la cena rinascimentale che sarà fatta nel Torrione del Palazzo Ducale, un punto panoramico meraviglioso e sarà fatta con l'associazione Maccaroni, che non solo cucinerà piatti dell'epoca, della corte, ma anche fare un allestimento a tema rinascimentale. Quindi una cena molto suggestiva in cui si potranno assaporare e rivivere i momenti dell'epoca. Oltre a questi due momenti molto belli, saranno disponibili durante tutta la settimana, perché appunto la nostra volontà è quella di dare al visitatore, che vorrà scoprire la mostra, ma anche la nostra città, la nostra vallata, delle esperienze durante tutta la settimana. Quindi faremo delle visite, pensate per bambini, per le famiglie, con delle attività, con delle guide abilitate, che renderanno la mostra più accessibile, anche più simpatica, più interattiva per i bambini. E faremo sì che anche il sentiero del Duca, che è il percorso che il Duca ripercorreva, salendo il fiume Metauro dal Palazzo Ducale al Barco Ducale, sia vissuto in maniera totalizzante, ripercorrendo appunto questo sentiero storico nella natura.